Dal Molo Pagliari nel 1946 partirono 1.041 ebrei sopravvissuti ai campi di concentramento, alla volta della Palestina. Le navi Fede e Fenice furono bloccate dalle autorità inglesi per giorni. Scattò la solidarietà della popolazione della Spezia, una vicenda che valse la medaglia d'oro al valore civile e alla città. Ma il Molo Pagliari, riconosciuto nel 2012 come bene storico, sta per scomparire a seguito della costruzione del terzo bacino portuale, per ampliare la capacità dello scalo spezzino. Sì, sono in corso lavori sul Molo di Pagliari che trasformeranno questo luogo originale. Dispiace perché era arrivato sino a noi intatto e si poteva sicuramente dedicare alla memoria ebraica. Sicuramente la porta di Sion era un monumento internazionale. Sulla Valenza del Molo Pagliari, come monumento civico, è stato organizzato oggi al Centro Allende un convegno. Tuteliamo e promuoviamo il patrimonio storico, questo è una parte di questo patrimonio. È nello spirito della giornata della memoria, anche se sono cose del passato, però la memoria è un segnale di speranza. Una storia riscoperta per caso negli anni 90. Sì, mi trovavo nella redazione del mio giornale nel 1996 e ho visto un'agenzia che batteva un concerto che si svolgeva contemporanea a Tel Aviv e a New York per ricordare la partenza delle navi Fede Fenice. Ho subito avvertito il sindaco di Spezia, che allora era Rosaia, e l'assessore Pagano. Si sono allertati e hanno messo una targa al Molo Pagliari. Da quel momento si può dire che abbiamo recuperato come collettività l'idea di che cosa era stata Spezia nel dopoguerra, cioè la porta di Sion, il vero porto da cui sono partiti migliaia di superstiti dei lager nazisti. E una vicenda sulla quale non è stato ancora detto tutto. Servizi segreti americani ben informati su quello che stava accadendo alla Spezia. Assolutamente, sapevano tutto, addirittura la banca che aveva emesso gli assegni per pagare le navi e tutti nei dettagli più nove pagine di relazione, mandata ad 11 al CENFIE dei servizi segreti d'Europa, quindi molto per informare dettagliatamente tutta Europa di quanto stava accadendo in quello che viene chiamato come l'affare la Spezia.